Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 in calo a 3 km la coda per incidente tra B1 variante di Valico e Calenzano verso sud. In A12 risolta la coda per veicoli in fiamme restano 2 km di code a tratti per traffico tra Carrara e Massa verso Livorno. Regolare al momento il traffico in A11 metri in Fipili permangono code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici verso il capoluogo e coda in uscita a Santa Croce in carreggiata opposta. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo lavori sulla rete idrica con possibili effetti sulla mobilità in via Cristofori, via Burchiello e via degli Agrifogli. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.